Buonasera, ben ritrovati con il nostro appuntamento di TRG+. Questa sera siamo a Gubbio negli studi di Gubbio e di TRG per parlare dell'appuntamento che il prossimo 25 novembre, domenica 25 novembre, coinvolge tante città, tante piazze in Italia ovvero la giornata internazionale della lotta contro la violenza alle donne. Il fatto parte, la giornata nasce da un evento accaduto nel 1960 a Santo Domingo l'uccisione di tre sorelle e da lì insomma solo per ricordare un fatto che però purtroppo è quotidianità la violenza sul mondo femminile. Ne parliamo oggi con l'assessore alle politiche sociali del comune di Gubbio, Rita Cecchetti e accanto a lei la presidente della commissione pari opportunità del comune di Gubbio, Rita Pagnozzi. Proprio con Rita Pagnozzi iniziamo perché dicevamo 25 novembre anche Gubbio ha la sua giornata per dire no alla violenza sulle donne ma gli appuntamenti sono catenzati già a partire da domani. Esattamente e sarà il nostro ultimo 25 novembre secondo questa formazione della commissione perché la commissione è stata nominata in concomitanza con le elezioni amministrative quindi finendo i cinque anni di amministrazione dell'amministrazione stirati anche noi terminiamo il nostro mandato e quindi abbiamo pensato di chiudere questo ciclo con una summa in qualche modo di quelle che sono state le attività che abbiamo portato avanti in questi anni e in questi anni noi abbiamo introdotto una novità che sono stati degli incontri con il territorio e sul territorio cubino quindi nelle varie frazioni noi abbiamo parlato di violenza di genere di pari opportunità, di violenza assistita che è quella a cui assistono i bambini in una famiglia e di violenza economica perpetrata ai danni della donna sui luoghi di lavoro ad esempio ed infatti partiamo come dicevi domani 21 novembre con un film al cinema Astra quindi uno dei più classici appuntamenti della commissione pari opportunità ci vedremo insieme il 21 quindi alle 21 e assisteremo alla proiezione di un film dal titolo L'Affido è una storia di Xavier Lagrande a cui peraltro è balso anche Leone d'Argento a Venezia per la regia come opera prima di Luigi De Laurentiis nel film il tema trattato è la separazione di due genitori con conseguente danno a carico del figlio perché è un po' inizialmente conteso e poi quando, vabbè non voglio andare oltre troppo lasciamo spazio a chi verrà, ciò che mi interessa sottolineare è che alla fine del film poi incontreremo il pubblico supportati da degli esperti in materia quindi insomma cercheremo di fare anche un confronto aperto sul tema di cui abbiamo trattato il 24 novembre invece alle 10 alla Sala degli Stemmi, quella in Piazza Grande lanceremo la campagna del fiocco bianco, lo faremo in conferenza stampa come l'anno scorso la campagna del fiocco bianco che è una campagna promossa dagli uomini che hanno deciso di indossare simbolicamente questo fiocchetto bianco proprio per combattere la violenza alla donna il fatto è partito dal Canada questa volta dove furono uccise 14 attiviste femministe per mano di un antifemminista e quindi poi da lì alcuni politici canadesi decisero di indossare questo fiocco bianco da diverso tempo noi abbiamo condiviso la campagna quindi la rilanciamo anche quest'anno e speriamo ci siano insomma diverse adesioni ma tanto ci vedremo il 24 assolutamente ma poi vogliamo vedere chi metterà questo fiocco bianco anzi invitiamo quanti più istituzioni ma anche persone del mondo pubblico insomma ad indossare quest'anno abbiamo addirittura invitato le famiglie dei ceraioni è il primo anno che facciamo questa operazione speriamo sia anche simbolica appuntamento successivo il 28 novembre poi c'è il 25 il 25 nello specifico non abbiamo appuntamenti perché la domenica Gubbio è sempre un po' drammatica dal punto di vista della risposta quindi abbiamo preferito non rischiare quindi diamo appuntamento al 28 novembre sempre di mercoledì sempre al cinema Astra e questa volta alle 21 assisteremo alla proiezione di un film il cui titolo è Nome di Donna la firma è quella di Marco Tullio Giordano la regia l'interprete femminile è Cristina Caputondi che è bravissima e tra gli interpreti maschili lo voglio dire risulta anche Valerio Binasco che è strepitoso sia a teatro che al cinema quindi assolutamente già per questo da vedere poi in realtà il tema anche qui è molto interessante perché la storia è di una donna che si trasferisce in Brianza in terra lombarda quindi per lavoro e lì subisce delle violenze sul posto di lavoro delle avanze insomma ecco questi film sono tutti a ingresso certamente tutti gli eventi della commissione sono sempre ad ingresso gratuito e anche qui alla fine del film inviteremo i presenti ad un incontro partecipativo con degli esperti del settore abbiamo anche degli avvocati insomma che interverranno quindi partecipate 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 l'ultimo appuntamento e qui vi lasciamo insomma un po' di pausa perché poi vi richiameremo all'attenzione il 13 di dicembre quando incontreremo squilli di tromba Dacia Maraini e verrà insomma a presentare l'ultimo suo libro che è Tre donne e per noi della commissione insomma e dell'assessorato sarà occasione per chiedere un po' a Dacia Maraini come ha pensato queste donne nei suoi romanzi come le ha trattate tra virgolette ecco e di tanto altro ancora parleremo Rita Cecchetti l'omonima Rita Pagnozzi parlava di una parlava di una commissione pari opportunità che insomma è arrivata anche essa a fine mandato come d'altro canto l'amministrazione Stirati la prossima primavera che cosa avete fatto? che cosa si è fatto per le donne? per questo tema che purtroppo è sempre più attuale abbiamo già solamente in questi giorni non ho raccontato nuovamente nelle cronache di una donna che è stata colpita con l'acido da un suo ex quindi insomma ormai sono troppo quotidiani questi fatti cosa? come avete operato? noi diciamo che la commissione, no ci tenevo a sottolinearlo è stata istituita nel nostro comune l'8 marzo del 1996 quindi sono 22 anni che opera e in 22 anni non è mai venuta meno a tutta una serie di iniziative e promozioni l'ha fatto sempre insieme all'assessorato repare opportunità perché poi il comune finanzia la loro attività però in realtà ha lavorato tantissimo sugli aspetti legati alla violenza contro la violenza alle donne nel periodo del mio mandato noi abbiamo, era stato aperto da poco c'era la commissaria un punto di ascolto contro la violenza alle donne e questo punto di ascolto ha funzionato perché ogni anno ne arrivano alcune perché il fenomeno è sommerso è aperto due volte alla settimana si può telefonare al 075 9237 513 se mi interessa sempre ricordarlo è il martedì mattina e il giovedì pomeriggio si trovano sempre persone in grado di ascoltare e di accogliere persone che sono state formate ha avuto l'impulso dalla commissione e dal centro per le pari opportunità però noi abbiamo continuato anche a formare altro personale per esempio le persone che stanno all'accoglienza lì al segretariato sociale sono persone formate quindi appena uno anche in un altro giorno vuole rivolgersi al comune può farlo perché magari poi verrà preso un appuntamento e la stessa cosa altrettanto poi importante è il fatto che abbiamo lavorato all'interno delle scuole l'hanno portata avanti la commissione con dei progetti contro gli stereotipi di genere ma come comune noi avevamo inserito in un protocollo d'intesa che riguardava le scuole in ogni ordine e grado il fatto che di questo aspetto dovesse comunque parlarsi insieme a tanti altri abbiamo fatto sinergie virtuose per far incontrare le famiglie la scuola, i servizi rispetto al problema dei bambini con bisogni speciali però questo aspetto anche era stato inserito e io voglio dire che noi siamo abbiamo poi sui servizi sociali proprio perché il welfare è strettamente connesso col problema delle donne che si occupano del lavoro di cura in famiglia questo lo dobbiamo continuare a dire noi abbiamo mantenuto il livello dei servizi sociali nonostante ci fossero delle difficoltà finanziarie abbiamo mantenuto comunque i nidi che adesso sono addirittura comincia un po' una lista d'attesa rispetto agli anni passati abbiamo fatto un questionario sul grado di soddisfazione noi abbiamo una realtà che copre con il comune la maggior parte dell'offerta rispetto ad altri territori come Perugia sarà adesso sul 27% del comune e 8% privati considerate che sono regioni dell'Italia dove c'è il 2,1% insomma siamo avanti rispetto a questo però abbastanza avanti istante la situazione di difficoltà finanziaria che attraversano gli enti locali ci teneva a dire però che noi oggi dobbiamo essere molto attenti perché a livello nazionale sta andando avanti il decreto cosiddetto l'atteso di legge scusate l'atteso di legge del senatore Pilon che prevede da un lato apparentemente un discorso assolutamente giusto che nel momento che c'è una separazione l'affido deve tenere conto di entrambi i genitori perché entrambi sono estremamente importanti per l'educazione e la vita la qualità della vita dei figli però introduce degli elementi come l'obbligo in caso di separazione di pagare un mediatore familiare che le donne che spesso hanno grandi difficoltà rispetto agli uomini ancora circa il 50,7% non ha un lavoro stabile o ha un reddito basso la violenza è anche questa la violenza economica e di fatto saranno penalizzati come anche il discorso che in caso di violenza che spesso viene conosciuta dai servizi viene segnalata ai carabinieri prima che ci sia la sentenza in questo caso in caso di separazione rimane il discorso dell'affido condiviso anche al coniuge che è violento è vero che non c'è una sentenza ma se c'è una segnalazione in relazione di servizi cioè io credo che questo aspetto quindi questo costringe in qualche modo la donna che è vittima ad avere come dire ancora un rapporto quanto meno visivo con il coniuge violento costringe anche il figlio ad essere presente cioè questi aspetti io credo su questi aspetti è inutile cioè non voglio mandarla tutta su una politica di parte però io credo che le donne si stanno muovendo è un aspetto estremamente importante bisogna evitare che così come è stato presentato questo disegno di legge venga approvato quanto meno va modificato va assolutamente modificato in queste parti che sono delicatissime una pillola Rita e poi anche l'altra Rita su questo chiediamo abbiamo parlato di queste iniziative relative al 25 abbiamo parlato di quello che è stato fatto in questi anni come ha risposto il territorio le donne di gubbio del territorio escono fuori quelle che hanno problemi o c'è ancora un sentimento di vergogna perché esiste ancora questo tipo di atteggiamento l'hai detto esiste ancora però va detto che delle segnalazioni dei casi di presenza spontanea al punto d'ascolto in questi anni ci sono stati e sono sempre aumentate quindi forse qualcosina stiamo riuscendo a farla ti dico che gli eventi che in genere organizza la commissione sono molto seguiti al cinema è sempre tutto pieno se facciamo uno spettacolo teatrale la gente ci segue persino ai convegni e alle conferenze che sono generalmente quelli meno seguiti perché considerati un po' più pesanti le persone vengono si mettono in gioco la cosa che ci fa piacere dire è che quando organizziamo degli incontri aperti la gente si espone molto cioè le donne hanno bisogno e parlano di se stesse e raccontano se stesse le loro problematiche questo credo che sia un piccolo successo non di questa commissione perché non ci interessa assumerci meriti del fatto che se ne sta parlando sempre di più il lavoro che facciamo prendo altri 30 secondi per dire che facciamo anche un lavoro di sensibilizzazione nelle scuole come commissione e un lavoro di prevenzione in materia di salute della donna col consultorio quindi come servizio territoriale e anche questo ogni volta ci dà una risposta che ci interessa sempre di più accogliere ecco Rita ti coinvolgo aggiungendo anche un'altra riflessione molte volte sono le donne straniere soprattutto se vengono da paesi di cultura araba che hanno più difficoltà a raccontare se stesse ma anche a raccontare le difficoltà si è riusciti a superare questa barriera c'è stato ancora dei problemi ci sono io infatti volevo lanciare a intervenire in alcuni territori che si sono dimostrati anche molto aperti tipo la Semonte dove c'è un'associazione perché ci sono segnali che per esempio i bambini che si iscrivono alla scuola materna ancora non parlano italiano questo c'era stato segnalato l'altro mese da un insegnante ecco su questo noi dobbiamo ancora lavorare perché anche se poi al consultorio accedono cominciano sempre più ad accedere anche le donne straniere anche da noi arrivano le donne straniere però ancora il fenomeno è un fenomeno complesso insomma difficile quindi su questo bisogna ancora lavorare faremo in modo che con il coinvolgimento anche dell'associazione del territorio e anche continuando a fare questi percorsi queste presenze nelle frazioni di riuscire ad avvicinarle sempre più benissimo allora il primo appuntamento lo ricordiamo domani ore 21 Cinemastra seguiteci andate commentate partecipate ovviamente il fine è decisamente positivo grazie alle nostre ospiti e noi vi lasciamo con i programmi di TRG grazie a tutti Grazie a tutti.